Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di TeleItalia. Nonostante le sardine abbiano detto di non voler essere più in televisione, di non voler stare più nelle piazze perché il loro compito si era esaurito, alla fine sono sempre in giro in televisione o nei giornali a fare interviste. L'ultima ospitata di Matteo Santori è proprio di ieri sera a Piazza Pulita, appuntamento del giovedì sera di La Sette. Il portavoce è ormai presenza fissa nel salotto di Corrado Formigli e anche ieri sera durante la chiacchierata con il giornalista padrone di casa, il bolognese ha attaccato Matteo Salvini e stavolta ha utilizzato un modo tutto suo per dar contro al segretario della Lega, ma si comincia a vedere e si cominciano a intravedere degli insulti perché adesso vedrete per quello che vi racconto. La domanda rivolta a Santori è questa. Matteo Salvini ancora oggi arriva alla pelle delle persone, di fronte a questa sinistra spesso un po' esangue e velleitaria. Salvini che piaccia o no, a te non piace e neanche a me. Quindi gli dice che piaccia o no, a te non piace e neanche a me, dice il conduttore, visto che politicamente non condivido le sue posizioni, arriva sotto pelle, fa sentire alla gente delle cose. Tu gliela riconosci questa capacità? E qui Santori, non pago delle ultime supercazzo le fatte con Alessandro Sallusti e poi con il giornalista del Corriere che gli chiedeva sempre della prescrizione e lui gli aveva detto ma Giulia e Pino, anche loro potrebbero pensarla diversa da me. Io gli dice ma io ti ho chiesto che cos'è la prescrizione, cosa ne pensi? Se tu mi dici che Giulia e Pino divaga, inventa cose, frasi senza senso. Quindi questa volta sfodera un qualcosa di estruso che dice sì, però ci sono due modi per essere erotici, visto che alla fine si parla di Eros, una frase che fa sorridere Formigli e l'intero studio e chissà cosa ha pensato il pubblico a casa. Quindi il giornalista ridendo dice Salvini erotico, questo ricordatelo, a dirlo è stato lui, lo ha detto Santori. Eh, come dire, non sono stato io. Poi la sarda continua nel suo ragionamento e dice dicevo ci sono due modi, un modo è essere tamarri, l'altro è essere romantici. Salvini è un erotico tamarro, mentre noi proponiamo un erotico romantico. Arrivano altri applausi, anche la chiosa di Formigli. Ah, ok, hai reso l'idea, l'ultima parola se la prende Santori che dice così domani abbiamo qualcosa di cui parlare. Almeno per il momento il diretto interessato, l'erotico tamarro, giusto per utilizzare le parole di Santori, non ha ancora replicato. Ma prima o poi siamo certi la risposta arriverà. Quindi più che erotico, tamarro, praticamente ha detto che è un tamarro. Attenzione, tamarro comunque è un insulto, lo ha insultato. Sono quelli che predicano il linguaggio, il bel linguaggio, Salvini è un tamarro. Andare in televisione in prima serata in un programma di politica ad attaccare il capo di un partito, tu che non sei nessuno, niente mescolato col niente, a dire che Salvini è un tamarro. Ma il problema, attenzione, il problema è anche chi invita queste persone. Questo è un ragazzo, signore, perché ha più di 30 anni, è un signore vestito da ragazzo, che non è né arte né parte, non sa niente di politica, non sa nulla, di nulla, non sa cos'è la prescrizione, non sa niente, e lo invita nelle trasmissioni di politica, solo perché è un anti Salvini. Mi rendete conto di che cos'è e come è fatto il sistema di informazioni in Italia? Da che cosa è composto? Passiamo poi a un'altra notizia, alla profezia di Casalino, ex grande fratello, che smentisce il premier. Ex grande fratello, ma lavora con il capo del governo, eh. Arriva il conte Ter, dice Casalino. Il premier smentisce di voler fare un nuovo governo, ma spunta un audio del suo portavoce, Casalino. Solo una battuta a un giornalista, dice la nota informativa della presidenza del Consiglio. Amore, ci sarà un conte Ter, stai tranquillo. A parlare non è uno qualunque, ma Rocco Casalino, portavoce del premier, in un audio pubblicato oggi sull'inchiesta. Un messaggio breve e descontestualizzato, certo, ma che spunta proprio nelle ore in cui Matteo Renzi, a evocare una nuova crisi di governo e un ribaltone a Palazzo Chigi. Se hanno pronto un conte Ter, senza di noi, prego, si accomidino, l'ha detto il leader di Italia Viva, commentando lo sconto sulla prescrizione. Quindi il portavoce del Presidente del Consiglio, che dice, stai tranquillo, amore, che ci sarà un conte Ter, una nuova maggioranza, escludendo conte, facendo entrare altri provenienti da Italia Viva, scontenti o provenienti da Forza Italia, vuol dire che, se lo dice il portavoce del Presidente del Consiglio, vuol dire che ha sentito qualcosa o sta rivelando qualcosa che non dovrebbe dire, ovviamente. Un'ipotesi poi smentita subito dallo stesso Giuseppe Conte, che ha ribadito di voler solo lavorare alla realizzazione del programma sul quale ha chiesto la fiducia. Orizzonti futuri non mi appartengono, dice Giuseppe Conte, ma sono parole già pronunciate durante il suo primo soggiorno a Palazzo Chigi. Anche allora, quando a puntare i piedi era Matteo Salvini, il Premier aveva assicurato che in caso di caduta nel suo esecutivo non sarebbe rimasto in politica. Ma voi sapete che l'italiano è famoso perché prima dice cosa e poi fa altro. Lo ricordate nella saga dei Fantozzi? Tu italiano prima dice cosa e poi fa altro, gli dicevano, no? Tu italiano tu vieni da Italia, no? Quando Paolo Villaggio arrivava a Ortisei, no? Tu vieni da Italia, ma veramente? Capite che quei detti popolari, quelle cose così nei film, l'italiano prima dice cosa poi fa altro, deriva proprio da una caratteristica del nostro DNA. Noi diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Un misto tra ipocrisia e anche persone poco, poco, poco affidabili, poco trasparenti. Passiamo ad un'altra notizia. Buffagni con Renzi. Il Waffa viene istintivo. Il viceministro dello sviluppo economico va giù duro contro l'ex premier e dice che il comportamento di Italia Viva ha stufato un po' tutti. Ha stufato. Ogni tanto un Waffa va sempre bene. Se correnzi quante volte ti viene istintivo, dice. Il viceministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni va giù duro contro l'ex premier e si inserisce nella polemica tra Conte e il leader d'Italia Viva. Tutto è nato dall'assenza dei due ministri renziani, Teresa Bellenova e Elena Bonetti, al Consiglio dei Ministri, convocato proprio ieri sera. Il capo del governo ha detto che il partito di Renzi si comporta come un'opposizione maleducata e ha telefonato a Mattarella per cercare un'altra maggioranza. Il senatore toscano avrebbe replicato di non aver aperto nessuna crisi e di essere felice di andare all'opposizione. E così, intervenendo in radio a Radio Capita, l'esponente dei Cinque Stelle parla della manifestazione convocata domani dal Movimento. Dice Il deputato Grillino evidenzia che in ogni tanto un Waffa va sempre bene. Non ho detto la parola intera quando uno è al governo, viene da dire e poi si morde la lingua. E poi torna su Italia Viva e sul comportamento che ha stufato un po' tutti. Ma è per primo, il paese merita risposte e non polemiche sterili. Renzi pensa solo a se stesso e credo sia una convinzione del 90% degli italiani. Beh, su questo realmente ha ragione. Gli italiani pensano che Renzi sta pensando solo ai suoi giochini personali. Quindi più che un politico, gli italiani lo vedono come uno che è in Parlamento e si sta facendo i fatti suoi. Questo è il perché non riesce a salire oltre il 3-4% di affessionados che lo seguono da quando è entrato in politica. Poi Buffagni fa il paragone con Salvini perché quando i Cinque Stelle discutevano con la Lega le posizioni erano diverse su tanti temi. Mentre oggi si chiede se ci siano delle discussioni tra le forze di maggioranza. Ogni giorno c'è un motivo per andare in contrapposizione a urlare. Capisco l'esigenza di esistere, prosegue il Vice Ministro, ma se si è deciso di gestire un governo con l'orizzonte della legislatura bisogna avere la serietà di dare risposte concrete. Ma è la stessa cosa che dice anche Vito Crimi, il capo politico che non si sente mai dei Cinque Stelle, che dice quello che fa Renzi, lo fa per sentirsi vivo, per far vedere che c'è, che esiste. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.